Il ministro Pecoraro Scanio Ma io credo che questa due giorni di Genova, come ha ben scritto Giovanni Valentini su Repubblica, segna in qualche modo una svolta verde. È diverso il modulo anche di fare una conferenza. Non è solo la passerella degli interventi, pur importanti, perché sono contributi rilevanti, ma è per la prima volta che si fa una conferenza nazionale invitando tutti i blogger. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e hanno continuato a lavorare in rete, dimostrando di utilizzare non solo a parole nuove tecnologie, ma di fare in modo di avere, oltre che l'apporto importante dei giornalisti, questo nuovo mondo che vive nella rete. Ed è la prima volta, grazie anche a Gianfranco Mascia, che si è molto adoperato a questo, che abbiamo lavorato in Internet direttamente. E da questo punto di vista devo dire anche che ho avuto una telefonata, un'adesione di interesse al lavoro che abbiamo percorso, ed è un'adesione che speravo potesse venire anche qui, ma era abbastanza stremato dall'intero tour, che è quella di Beppe Grillo, che ci aiuterà in questo rilancio del patto per il clima e di questo lavoro, anche attraverso il lavoro in Internet che vogliamo fare. Credo che è importante perché, per la prima volta, noi, su tutte le nuove tecnologie che riguardano soprattutto in questo senso, per esempio, la nuova impiantistica sui rifiuti, abbiamo fatto un lavoro insieme al Ministero dell'Innovazione e per la prima volta il Governo italiano ha un documento ufficiale che parla di riduzione dei rifiuti e soprattutto della reintroduzione del vuoto a rendere, che parla di strategie sul compostaggio domestico, che parla di impiantistica innovativa, che non ha più al centro la combustione, ma l'innovazione, e tutto questo è disponibile sui siti del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Innovazione perché è, nella cultura della partecipazione democratica, un documento aperto. Quindi non il documento istituzionale chiuso che dice da parte del Governo ciò che c'è, ma un documento di ricognizione del Governo aperto al contributo di chi, anche attraverso la rete, può aiutarci a studiare, a fare in modo che noi, l'Italia, si metta all'avanguardia dei modelli tecnologici e che, per essere chiari, diventi quel Paese che investe sulla strategia zero waste, zero rifiuti, che prevederà di riciclare e di riutilizzare tutto, che è la scelta dell'innovazione nella materia dei rifiuti, nella materia delle tecnologie. E l'altro messaggio importante di interesse al percorso che stiamo facendo del Patto per il Clima, un altro importante, ce l'ha confidato ieri sera, in una lunga chiacchierata che abbiamo fatto, Don Andrea Gallo, che è un'altra grande personalità genovese che noi vogliamo con noi nella battaglia per la laicità. Tra l'altro, Don Andrea ha anche aderito il 12 di maggio alla giornata nazionale dell'orgoglio laico per dire che noi la legge sul divorzio e le grandi battaglie dei diritti civili in questo Paese le vogliamo fare insieme anche a personalità di grande valore del mondo cattolico, come Don Andrea Gallo, che parteciperà a Piazza Navona alla manifestazione per ricordare i diritti civili che in questo Paese servono per tutti, per tutte le famiglie, per tutte le persone, perché non ci vuole una contrapposizione laici-cattolici, ma ci vuole una grande scelta che garantisca più diritti a tutti nel nostro Paese. Noi crediamo in questo e non nel riaprire una sorta di guerra di religione di cui l'Italia, francamente, non ha bisogno e non ha necessità. Dicevo quindi di queste nuove persone, ma anche di adesioni nuove al nostro patto per il clima. Oggi, diceva, raccontava l'assessore Tommasi, mi ha telefonato il presidente della regione Calabria, Gazzolo Iero, per comunicare la sua adesione. Stamattina il responsabile ambiente di rifondazione ha scritto su Liberazione l'interesse e l'adesione al patto per il clima. Oggi anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno dato la loro adesione. Hanno dato la loro adesione, Diego Abbatantuono e Claudia Cardinale, che hanno letto l'appello per il clima e hanno deciso di aderire al patto per il clima dei Verdi. Mi sembrano segnali da mondi diversi, però del fatto che sempre più persone considerano il cambiamento climatico il centro della riforma della politica. E questo, guardate, la dice lunga rispetto a congressi che abbiamo visto nelle scorse settimane, che con tutto il rispetto hanno ancora troppo la testa rivolta all'indietro. Ma oggi siamo nel 2007. Ieri l'IPCC ci dice per l'ennesima volta quali sono le condizioni di cambiamento climatico del pianeta. Oggi il Paese ha bisogno di partiti che si occupino di clima, di innovazione, di giovani e che con tutto il rispetto delle radici del passato guardino però anche alla chioma che deve tendere verso il futuro perché non si vive solo di passato con tutto il rispetto delle radici che tutti noi abbiamo e richiamiamo. Ecco, io credo, aderito anche il Presidente nazionale dell'Ordine degli Architetti che rappresenta anche la Confederazione Italiana delle Professioni, l'architetto Raffaele Sirica, ma al sito che abbiamo messo a disposizione per il patto per il clima stanno continuando ad arrivare molte adesioni. Ora, il lavoro che dovremmo fare in tutta Italia e sul territorio è di ragionare zona per zona perché in tutte le province, coloro che stanno lavorando con noi, è che questo nuovo mondo perché quando noi abbiamo parlato della costituente ecologista, il rilancio dei verdi perché, come ho detto ieri e ho ribadito, il soggetto politico verde punta già di per sé a diventare più europeo, più forte, più esistente, andare oltre il recinto tradizionale del sole che ride perché noi in questi vent'anni abbiamo fatto tante cose, l'abbiamo scritto anche nel patto per il clima e guardate, in Italia sono state fatte nei vent'anni ultimi più riforme dai verdi che dai cosiddetti riformisti la legge sui parchi l'abbiamo fatta noi, la legge sulla difesa del sole l'abbiamo fatta noi la legge sul randaggismo, la legge per quanto riguarda il controllo del commercio delle armi ultimamente la riforma dell'agricoltura, delle foreste, il conto energia e speriamo di portare a termine anche la nuova normativa sui delitti ambientali ebbene, io credo che il premio italiano non è quello di come si cerca di ridurre l'incidenza di queste forze politiche che sono quelle dell'innovazione ma di come noi raggiungiamo alleanze più larghe per rendere più forti questa ragione ed ecco perché io ringrazio soprattutto la presenza di tanti persone che non hanno mai partecipato iniziative dei verdi, imprenditori, sindacalisti, la CNA, la Compartigianato, il mondo dell'agricoltura soprattutto avete visto per la prima volta una conferenza di un partito che però è accompagnata da progetti concreti, da best practice, dalla capacità di capire che oggi non bisogna fare solo teoria bisogna vedere anche come in pratica si realizzano le cose che vogliamo realizzare quindi quando noi abbiamo scritto ecologia è economia e abbiamo usato un termine strano perché abbiamo usato il simbolo dell'euro che insomma non è tradizionale per le nostre conferenze ma per dimostrare che si crea occupazione, si crea lavoro e si crea impresa guardando avanti, non guardando solo al passato e allora noi siamo in grado di fare questo questa costituente dei verdi che giustamente è il lancio che noi abbiamo fatto a Fiuggi noi a Fiuggi abbiamo scelto praticamente all'unanimità e siamo l'unica forza politica ad averlo fatto l'unica di convocare entro la fine del 2008 una grande assemblea con i 600 delegati di Fiuggi dei verdi ma con 600 persone che verranno tra coloro che aderiscono a patto per il clima a queste iniziative guardate che al di là di tutte le chiacchiere nessuna forza politica ha messo a disposizione sostanzialmente se stessa per cercare di allargarsi veramente senza rete e non cercando di fare finta di fare cose nuove che però altro non fanno che riorganizzare il ceto politico già esistente ora dobbiamo perseguirla questa strada dobbiamo perseguirla questa è la novità perché tutti parlano di allargarsi alla società civile ma guardate che poi ogni atto che fanno è di spartirsi le quote tra correnti tradizionali di ceto politico noi l'abbiamo detta vera l'abbiamo fatta in questa conferenza di oggi hanno parlato sostanzialmente per un terzo forse espressioni iscritte ai verdi e per due terzi persone che non hanno mai avuto in tasta una tessera di partito men che meno la nostra con la dimostrazione che come dire davvero bisogna innovare perché se no si cambiano le sigle ma le persone sono sempre le stesse noi oggi stiamo lanciando un soggetto dove i nomi che hanno aderito dove le persone che hanno partecipato alla stessura di questo cioè l'appello per il clima diversamente come dire questi appelli generici dove si dice tutto è il contrario di tutto e quindi si può fermare qualunque cosa è molto chiaro perché fa scelte di valore dice sull'energia lo dicevo ieri ma è importante che in questo ce lo chiariamo chi aderisce a questo appello sceglie di puntare sull'energia solare sui biocombustibili e sull'idrogene dice no al carbone e al nucleare con buona pace di quelli che nel 2007 ci propongono di nuovo il nucleare non è una posizione neutra è un ambientalismo riformatore vero non l'ambientalismo a chiacchiere non l'ambientalismo a chiacchiere perché non vogliamo né il no a tutto che non va da nessuna parte ma nemmeno come dire il greenwashing per cui ci si ripulisce la coscienza dicendo che si è un po' ambientalisti noi la pensiamo agli antipodi di chi oggi ci ripropone il nucleare guardate che io sono allibito vedo rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano altri rispetto a quelli che sono qui a fare l'innovazione che ci propongono il nucleare guardate per essere molto espliciti io faccio il ministro dell'ambiente di questo paese e le imprese e l'imprenditoria italiana in vent'anni non ci ha offerto ancora una soluzione alle scorie nucleari che abbiamo in questo paese ci dicano prima dove hanno le tecnologie per risolvere i problemi perché è irresponsabile un'impresa che vuole aprire una fabbrica e non sa come chiuderla e lascia alla collettività i costi noi abbiamo ancora problemi a Saluggia a Trino Vercellese a Caorso al Garigliano alla Casaccia questa è la realtà è l'eredità del nucleare di questo paese vergogna chi oggi parla del nucleare ancora non ci dà una tecnologia per risolvere scarica sullo Stato i costi non è impresa questa questa è miopia è incapacità di fare impresa chi in un paese serio fa impresa quando propone di aprire una fabbrica sa anche come chiuderla e quindi noi rifiutiamo di discutere con chi non ha capacità tecnologiche e ci propone soluzioni quando non ci ha ancora aiutato a risolvere le soluzioni di vent'anni fa intanto i guai li stiamo pagando noi e li pagano i contribuenti italiani noi vogliamo imprese che portino benessere all'Italia che portino profitto alle imprese lavoro e benessere non gli speculatori che chiedono solo danaro pubblico per fare delle fabbriche e poi lasciarci a noi l'onere delle bonifiche e di un paese che ha vissuto tanti disastri industriali dovuti proprio all'amiopia e all'imperizia perché anche questa è una differenza e noi vogliamo che questo sia chiaro perché quando utilizziamo il danaro pubblico il danaro pubblico nella versione nostra è sacro perché il danaro del contribuente non va buttato e non va sprecato altro che parlare di taglio al costo della politica il vero taglio al costo della politica è utilizzare bene le risorse del danaro dei cittadini non buttandolo in un'infinità di rivoli di contributi clientelari che troppi settori in questo paese hanno avuto risucchiando le casse dello Stato questo è un grande costo che non so se si chiama costo della politica ma sicuramente è una grande truffa che i cittadini italiani hanno subito quindi per favore noi lavoreremo anche su questo vogliamo realizzare proprio perché all'insegna dell'economia e dell'ecologia un libro bianco sulla trasparenza dei tanti contributi pubblici che lo Stato dà perché non c'è solo il CIP6 noi il CIP6 l'abbiamo abolito ed è stato uno scandalo e io spero che l'Unione Europea chieda indietro come aiuti di Stato illeciti quelli che con le fonti rinnovabili sono stati utilizzati per finanziare incredibilmente le cosiddette fonti assimilate questo scandalo deve finire noi l'abbiamo abolito per il futuro ma io credo che bisogna verificare sulle responsabilità del passato ma non è solo l'unico dobbiamo fare in modo che quando si danno interventi pubblici gli interventi pubblici abbiano un evento di trasparenza e allora da questo punto di vista io dico guardate noi abbiamo avuto un sostegno importante quando io leggo i nomi almeno alcuni e li voglio ricordare a questo appello per il clima che è chiaro e ho detto il nucleare e il carbone perché è un esempio ma è chiaro sul biologico e su un'agricoltura di qualità senza OGM e non è che tutti la pensano così nel centro-sinistra non osano dirlo ma alcuni ancora sono invaghiti pensando che gli OGM erano una cosa moderna un po' come quelli che si invaghivano che nutrire le vacche con la carne era una cosa moderna dopo che c'è stata la mucca pazza tutti questi modernisti fasulli sono scomparsi perché avevamo ragione noi è meglio che gli animali vengano nutriti con metodi naturali e gli erbivori mangiano in genere erba queste cose semplici avrebbero evitato grandi problemi al nostro continente dicevo la gente che ha aderito a questo appello che è chiaro sono personalità come Stefano Rodotà come Gerry Meriffich Gianfranco Amendola Carlo Rubbia Carlin Petrini Alberto Assorrosa Katia Bastioli Domenico De Masi Giobbe Covatta Gerard Onestà Alessandro Zan Riccardo Petrella Rosarba Giulia Adele Parrillo che se ricordate è la vicepresidente della lega italiana famiglia di fatto la compagna di quella vittima di Nasseria che fu esclusa da andare addirittura alle sequie queste sono vergogne che in un paese civile non devono mai più accadere perché tutti gli amori vanno rispettati da un paese che si dica civile e ancora l'adesione di Guido Pollice di Danieri Caldarelli di Rosario Trefiletti di Mauro Paessan e guardate sto lasciando fuori tutti gli esponenti dei Verdi a cominciare da me che ovviamente hanno contribuito e aderito a questo appello e ancora tante tante persone che sono la dimostrazione di un mondo di personalità che non sono interne alla storia del sole che ride ma che oggi devono diventare per noi interlocutori normali e naturali nella costruzione di una grande costituente ecologista e questo è il primo tema poi c'è la sfida che noi abbiamo lanciato e che lanciamo sul fronte dell'economia la nostra sfida guardate sull'economia significa almeno tre cose la sfida che noi lanciamo noi lanciamo una prima sfida sull'energia c'è bisogno di una riconversione ecologica della produzione e del consumo di energia in questo paese questo significa efficienza energetica e quindi ancora di più la linea scelta nell'attuale finanziaria con un forte e massiccio investimento sull'innovazione e anche qua una sfida sul mondo della ricerca dell'industria dell'innovazione la costruzione del nostro paese di almeno 20 nuove centrali solari in Italia nei prossimi anni dicono che non vogliamo fare noi vogliamo fare noi vogliamo inaugurare 20 nuove centrali solari che produrranno almeno mille megawatt arrivando alla sfida con la Spagna se la Spagna può farlo l'Italia deve investire su questa sfida lo proporremo al mondo dell'industria e dell'impresa lo proponiamo come la nostra sfida almeno una centrale solare termodinamica in ognuna delle 20 regioni italiane siamo in grado di farlo noi pensiamo di sì e pensiamo che bisogna facilitare anche gli strumenti burocratici questo va fatto anche per tutto il resto dell'energia solare dobbiamo stabilire che non è che noi lanciamo il solare e poi una serie di legacci burocratici bloccano l'installazione per filo dei pannelli fotovoltaici noi vogliamo fare fatti salvi gli edifici storici bisogna consentire con la massima facilità nessuna burocrazia e rapidamente i pannelli fotovoltaici su tutti gli opifici industriali e su tutta l'edilizia che non ha pregio da un punto di vista culturale dei beni culturali mentre è chiaro che manteremo una grande attenzione sui centri storici sui beni culturali e su quelli che sono valori di qualità perché non va ripetuto l'errore fatto nel settore dell'eolico dove l'errore non è l'eolico che è un'energia pulita e rinnovabile sono le modalità con cui in Italia in troppi parti si è lavorato sull'eolico senza consultare le popolazioni e senza avere piani efficienti laddove si è lavorato bene io sono convinto che si potrà riprodurre con grande qualità anche quell'altra energia pulita che è l'energia che viene dal vento quindi noi dobbiamo lavorare bene su questa prima sfida l'energia almeno 20 centrali solari sono accessibili a una sfida tecnologica ed industriale poi c'è la seconda sfida adesso l'edilizia e lo offriamo come il prossimo convegno che noi faremo sarà con l'associazione nazionale dei costruttori con il mondo delle professioni per lanciare un grande piano per abbattere e ricostruire le periferie degradate di questo paese per fare bioedilizia e per dare finalmente case a prezzo agevolato alle giovani coppie agli studenti perché se c'è uno scandalo in questo paese è il costo degli affitti che è indecente e che rende ancora più grave il problema del precariato che diventa doppio precariato anche abitativo questa è economia questa è economia e noi dobbiamo favorirla perché quando si dice rilanciamo la crescita in Italia quale cresce? crescita di qualità? bene una crescita generica dei consumi non serve a nulla serve la qualità dell'innovazione che noi mettiamo e poi c'è il terzo fronte dopo l'energia e l'edilizia ed è la frontiera dei trasporti noi dobbiamo proporre io credo che un grande risultato aver ottenuto ieri finalmente il via libera l'acquisto di mille nuovi treni per i pendolari finalmente non si parla solo di TAV ma si parla anche dei pendolari che sono milioni di italiani e di tanti treni noi non abbiamo mai avuto niente contro il potenziamento delle grandi linee trasfrontaliere però viva Dio pensiamo anche ai milioni di cittadini che usano e a quelli che potrebbero usare il treno e diamoci un obiettivo sul settore dei trasporti di raddoppiare entro il 2020 il trasporto pubblico su ferro nel nostro paese noi dobbiamo avere una strategia chiara anche perché la risposta a quello che ieri a Bangkok dice l'IPCC guardate l'IPCC all'ONU che nel terzo rapporto ha parlato dei rimedi dice che il primo settore che può contribuire alla riduzione del CO2 è l'edilizia perché noi dobbiamo passare dalle case che consumano energia alle case che producono energia questa è una svolta che chiede a livello mondiale le Nazioni Unite e noi siamo un paese che guardate è vero che siamo anche paese dell'abusismo edilizio della cementificazione ma siamo anche il paese della grande tradizione dell'edilizia e del settore delle costruzioni dove abbiamo florfior di architetti dove abbiamo grandi capacità nel settore operaio e allora il problema è liberare il settore dell'edilizia dalla trappola della speculazione della cementificazione dell'abusivismo edilizio e dei condoni e finalmente fare in modo che questo diventi un mondo che dà e ricomincia a dare qualità al sistema Italia e non soltanto speculazione allora io credo che questo si può fare l'IPCC dice che il secondo tema saranno i trasporti e noi sui trasporti dobbiamo fare efficiente il sistema del trasporto pubblico il problema guardate non è un record per il nostro paese avere il record di automobili per abitanti d'Europa guardate che non è da paese ricco questo è da paese in via di sviluppo noi dobbiamo avere il record della capacità di muoversi per abitanti non è importante avere una famiglia quattro auto è importante potersi muovere più velocemente per raggiungere i posti di lavoro o di divertimento che vogliamo scegliere quindi dobbiamo investire su una nuova modalità del trasporto pubblico e sul cambio dei carburanti il paese deve andare a biocarburanti e a idrogeno il futuro dovrà essere quello di dire entro quanti anni noi diremo basta con le benzine con il diesel e avremo un parco veicolare che circolerà con i nuovi carburanti che servono in questo secolo e questa è la sfida ci riusciremo sicuramente il mondo dell'agricoltura è in grado di dare una risposta come peraltro Rubia ha anche detto in più occasioni ma soprattutto siamo in grado di cambiare il sistema di mobilità quindi dobbiamo cambiare più trasporto pubblico cambiare gli stili di vita e migliorarli per essere più liberi perché guardate non è una grande bellezza stare chiusi intrappolati dentro un'auto perdendo perdendo un pezzo della nostra esistenza chiusi dentro al traffico e dall'altra parte un cambio dei carburanti e quindi abbiamo questi tre grandi comparti l'energia i trasporti e l'edilizio e sono tre grandi comparti dobbiamo fare una sfida dell'innovazione e credo che i verdi su questo devono lavorare e quindi il proseguo di questa conferenza saranno gli incontri con le singole categorie e con i singoli settori sarà il patto che i verdi devono stringere con i nuovi settori produttivi e qua parliamo soltanto di questi grandi settori che sono quelli legati a Chioto ma è evidente che poi quando noi parliamo di diritti noi vogliamo che si porti a termine il patto per fare finalmente il diritto all'acqua bene comune del nostro paese e ci dobbiamo riuscire bloccando le privatizzazioni selvaggio e dimostrando che il pubblico può dare una risposta efficiente al problema della qualità della gestione idrica del nostro territorio non è vero che non ci può essere un pubblico efficiente il pubblico senza clientele e lottizzazione può essere molto più efficiente di quanto noi stessi immaginiamo dobbiamo accettare questa sfida questa sfida e chiudo dicendo e ricordando che poi ovviamente ne abbiamo citato e ne stiamo parlando anche qui c'è il settore dei diritti degli animali noi vogliamo superare come è scritto nel programma della coalizione la vecchia logica vergognosa e scientificamente superata della vivisezione la vivisezione è indecente è un arcaismo scientifico che non ha più ragione di essere ed è un diritto è il diritto alla non sofferenza è il diritto alla lotta contro la crudeltà così come lo facciamo contro la pena di morte nel mondo così come lo dobbiamo fare per rilanciare il diritto alla laicità in questo paese il diritto al riconoscimento delle coppie di fatto il diritto a un lavoro non precario e quindi alla tutela soprattutto dei giovani e credo che visto che abbiamo parlato tanto di quote rosa e dobbiamo mantenerle rispettarle non solo proclamarle io credo che in Italia prima o poi dovremmo farci il carico di fare anche le quote giovani perché è un paese che se no morirà di gerontocrazia e infine tutti i diritti alla conoscenza il software libero la revisione del sistema brevettuale noi abbiamo bisogno su questo di fare innovazione e siamo gli unici a potercene occupare perché siamo liberi da condizionamento di pesanti multinazionali di pesanti centri di potere questo è il lavoro che ci ci guarda al futuro e allora io credo che il poi dopo questa conferenza sono le tante conferenze tematiche di settore che dobbiamo fare sono il giro d'Italia che dobbiamo realizzare con una ripetizione in tutti i capoluoghi regionali anche in quelli provinciali di iniziative come queste che valorizzino anche gli imprenditori e l'imprenditoria locale che esiste nel nostro paese che valorizzino i settori della cooperazione il settore dell'associazionismo e dell'ONG tra l'altro dobbiamo rilanciare una grande capacità di azione anche verso i paesi più poveri l'Italia deve avere questa cultura forte di solidarietà anche internazionale dobbiamo fare in modo di estendere queste azioni quindi con conferenze tematiche con conferenze tematiche che inizino sull'energia sui trasporti e sulla nuova edilizia ma che proseguano con le nuove medicine non convenzionali e con il riconoscimento delle professioni non riconosciute che proseguino nel grande settore di tutto il mondo dell'informatica dove c'è moltissimo da fare e devo dire la verità c'è anche moltissimo da risparmiare perché se noi applicassimo l'open source a tutti gli enti pubblici italiani risparmieremmo milioni milioni e milioni di euro come peraltro in alcune realtà penso al frio Venezia Giulia stiamo già dimostrando di fare e come peraltro stiamo facendo anche al ministero dell'ambiente dove abbiamo deciso di passare ai sistemi open source e alla possibilità di usare anche Skype e tutta l'innovazione che c'è a disposizione nel nostro pianeta ecco questo è il nuovo sono cose di cui non si parla nelle conferenze dei partiti dove tra l'altro l'ho detto anche ieri noi rispettiamo il pantheon del passato e qualche persona morta la mettiamo anche noi nel nostro pantheon a noi San Francesco d'Assisi Gandhi ci stanno bene però abbiamo deciso di investire sui vivi e quindi nel nostro pantheon abbiamo messo Rubbi abbiamo messo Rifkin Riccardo Petrella Alex Zanotelli metteremo Don Gallo facciamo in modo che ci sia Carlin Petrini e tutti gli altri che possiamo allargare vogliamo come dire un pantheon diciamo anche qua facciamo un terzo morto e due terzi vivi e così almeno come dire cambiamo la proporzione rispetto al pantheon dei nostri amici che si litigano il passato come dire rispettabilissimo allora credo che noi su questo dobbiamo lavorare la costituente verde deve essere un grande obiettivo ma non dobbiamo dimenticare che dentro questo c'è una grande alleanza l'abbiamo detto ieri poi oggi mi hanno chiamato e dicono ma allora che fate la cosa rossa la cosa verde perché poi in Italia i giornali cioè tu gli dici il solare e poi alla fine dici però come siamo siamo disgraziati che dobbiamo fare allora però visto che dobbiamo stare anche al gioco della politica politicamente abbiamo detto guarda noi faremo la costituente verde per il grande partito del CLI che riguarda tutti coloro che penseranno che questa è una priorità però è evidente siamo ben consci che poi serve questa grande alleanza progressista se vogliono dargli un colore chiamiamola arcobaleno perché sarà un'alleanza con i tanti colori della novità e dell'innovazione tra cui il colore della pace e dei nuovi diritti è un colore a cui noi siamo sempre affezionati quindi se a un'alleanza parteciperemo sarà un'alleanza progressista laica ambientalista se gli vogliono dare un colore ebbè l'alleanza a cui partecipiamo noi può avere solo i colori dell'arcobaleno perché sicuramente non rifacciamo nel 2007 nel PC nel PSI nell'ADC noi abbiamo detto che questo appartengono a una grande esperienza di questo paese ma poiché come dire sono il passato noi vorremmo guardare al futuro e quindi sicuramente abbiamo detto ieri il Partito Democratico ha fatto la sua scelta di andare a inseguire un elettorato centrista rispettabile scelta importante ma questo significa che allora c'è bisogno di una grande alleanza progressista che rappresenti i tanti uomini e donne o donne e uomini progressisti ambientalisti di sinistra riformisti laici ma se no questa parte che oltre il 20% almeno dell'elettorato e ma chi la deve rappresentare cioè io credo che abbiamo il dovere di allargare al massimo l'area ecologista e dell'ambiente e del clima ma di cooperare perché venga mantenuta forte anche una grande presenza progressista in questo paese perché noi crediamo che le riforme si fanno se si guarda al progresso come lo vediamo noi perché il progresso che vediamo noi è quello appunto che è ecologia e economia ed è alla luce del sole e non come dire affogato dal carbone oppure appestato dal nucleare noi siamo convinti che questo futuro c'è e noi siamo orientati a lavorare per questo partito del futuro abbiamo avuto tante adesioni importanti adesso vogliamo lavorare perché siano sempre di più ma per dare soprattutto un luogo della politica della discussione delle cose concrete dei contenuti perché sennò la gente gli dice sì fate la costituente ecologista per fare cosa ecco noi spieghiamo per fare cosa io credo che questa è la grande differenza perché guardate se no tutto il dibattito sembra tutto di una politica a volte incomprensibile quindi io credo che il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni è molto importante colgo l'occasione per dire che anche gli amici di Genova Cristina Morelli e Luca Dallorto hanno molto ben lavorato per ospitarci in questo bellissimo luogo e hanno fatto anche una cosa in più aver messo finalmente l'erba che avete visto stamattina comparire a piazza dei Ferrari fa capire che si può fare un po' di arredo urbano non solo col cemento ma anche con un po' di vegetazione di verde che non fa male nelle nostre città nelle osse aree urbane quindi ben venga questa azione grazie a Angelo Fabio Paolo Stefano Gisotti tutti gli altri hanno lavorato devo dire con grande abnegazione alla buona riuscita di questa iniziativa credo che gli interventi che mi seguiranno arricchiranno ulteriormente la nostra battaglia io oggi ho avuto anche l'opportunità di andare a inaugurare un'iniziativa con Carlin Petrini che non solo ha confermato l'interesse per la nostra iniziativa ma ha detto che insieme a Rubbia vuole lavorare da subito a organizzare questo nuovo partito per il clima e abbiamo lanciato insieme una grande iniziativa che sarà che io ho sostenuto anche come ministero che inizierà a settembre e che si svolgerà su tutta l'asta del grande fiume italiano che è il Po è un'iniziativa che permetterà di percorrere in bicicletta tutto il Po tutte le zone vicine al Po perché il Po non è vogliamo così secco che andiamo in bicicletta e di fare un check up di un grande fiume italiano noi abbiamo un sogno e un obiettivo gli londinesi sono riusciti a recuperare il Tamigi i francesi sono riusciti a recuperare la Loira noi riusciremo a risanare il Po e a fare finalmente anche il grande parco del delta del Po che merita come la Camargue francese un grande parco per il grande fiume italiano quindi la lega è avvertita vogliamo riprenderci anche il Po perché è un pezzo della storia dell'ambiente dell'Italia e non fa parte solo di un pezzo della cultura è un patrimonio nazionale buon lavoro a tutti